Buongiorno a tutti, vediamo oggi un termine molto importante ma anche complesso. Market window, in italiano finestra del mercato. La finestra del mercato è l'intervallo di percentuali di vittoria all'interno del quale può essere corretto cubare. Attenzione, non ho detto è corretto cubare ma può essere corretto. La finestra di mercato si apre col double point dead cube. In questa pillola citiamo parecchi termini che sono già stati spiegati in altre pillole. Vi suggerisco di andare a rivedere i relativi video che trovate nelle schede in alto a destra o nella descrizione. Quindi, dicevamo, la finestra di mercato si apre col double point dead cube e si chiude col cash point, cioè il take point live cube per l'avversario. Quindi, take point quando l'avversario può ricubare con piena efficienza, cioè quando il possesso del cubo è per l'avversario assolutamente efficiente. Facciamo un esempio per cercare di spiegarvi meglio il concetto. Prendiamo una situazione in partita libera. Il double point dead cube è il 50%, cioè ci conviene cubare all'ultimo tiro quando abbiamo anche pochissimo in più del 50% di probabilità di vittoria. La finestra di mercato in partita libera si chiude all'80%. Quindi, all'avversario conviene accettare il nostro cubo anche col 20% di probabilità di vittoria se appunto il possesso del cubo è totalmente efficiente. Tipicamente si considera invece il take point in partita libera il 25%, ma questo vale solo in situazione di dead cube. Spero che la definizione sia stata abbastanza chiara, ma sicuramente sarebbe utile un video che approfondisca il concetto. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima. Grazie.